un giro a sinistra a donna dentro, guardatelo qui la mano destra alta che va sul compino e la mano sinistra bassa inizio facilissimo da qui, diviso tutto il giro giro io mi leggo, mi metto entro, gira ok siamo qua 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7, dentro 1, 2, 3 5, 6, 7, in avanti 1, 2, 3 5, 6, 7, va 1, 2, 3 qua è il giro 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sta guardando così e la sinistra sta guardando per forza su sto parlando al maschile ora 1 questa guida questa sale e va a mettersi ruotando in questo modo mi consiglio di non chiederla troppo fuori ma di tenere sempre più nell'altezza del giro ora vado a girare guardate le braccia io ho i palmi che guardano all'interno lei ho i palmi che guardano all'interno ora questi dettagli fa la differenza continuo a girare la destra sale il palmo ruota perfetto 1, 2, 3 anche qui 5, 6 il palmo ruota sotto il palmo ruota sotto 1, 2, 3 5, 6, sinistro 1, 2, 3 5, 7 1, 2, 3 5, 7 dentro 1, 2, 3 5, 7 1, 2, 3 5, 7 1, 2, 3 5, 7 1, 2, 3 pronti?